Eh, ciao a tutti ragazzi qui Retex e oggi siamo qui insieme a ESA Per fare un qualcosa di bellissimo, ovvero la sfida del meno 99% dei chunk, sei pronto? No Però la facciamo comunque Adesso lo scopo è trovare i diamanti nonostante ci sia il 99% dei chunk in meno Come prima cosa considera che là ci sono tanti altri chunk, quindi potremmo anche andare lì per esempio E ci sono, quelli, quelli sono dei diamanti Quelli sono dei diamanti Beh per questo video è tutto Però guarda, sono veramente i diamanti Ti prego di Michele a Optifine, ci sono davvero i diamanti Comunque ci tengo a dire una cosa Iscrivetevi perché stiamo registrando questo video quasi al luna di notte Al luna di notte? Ogni video è sempre peggio, ogni video che faccio con te, ti rendi conto? Una volta a mezzanotte, ora al luna, la prossima volta quando? Alle 4? Beh sì dai basta che mi riesci a svegliare Sì sono, cioè hai presente gli orsi? Sì, in letargo Esatto Il problema si pone quando nessuno entra nel discord Entrate pezzini che potrete vedere Ermitico buco di Esa Che sarebbe la sostanza? Bene Esa ci vediamo, ci vediamo quando avrò trovato i diamanti Ma va bene buona fortuna Nel frattempo io mi taglio l'albero Ho pure quattro torce Ok penso stendo lava C'è della lava Ti conviene iniziare ad entrare nel magnifico buco di Rai Eh no aspetta Sì certo Ah madonna Sta diventando qualcosa di cringe Taglia taglia Mi butta il capovitto Ciao 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 Non so Mettete la torcia che non vedo niente Cosa fai? Eh No son caduto Ho messo la keep inventori poco prima di morire Madonna La velocità nel digitare alla tastiera Incredibile E' documentata in questo video Un record mondiale Chi è il dattilografo più famoso? Dopo vado a vedere Giusto per dirgli Ah non sei nessuno Dovresti sforgerti un attimo per vedere l'arte La poesia di questa scena Aiuto Eh metti un blocco Cerca di arrivare qua Sì No No ma fa culo Ecco bene Ciao Che schifo la vita Eh fra ho trovato tipo dell'oro Del ferro e della red Io non te lo vorrei dire Però te lo dico comunque Ah ma tu sei Giù 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 Ma lei Da dove Ah ma tu da così Penso che dovremmo iniziare ad andare Nelle altre isolotte Nelle prossime isole Ah Pensavo fossi uno scheletro Ma come lo stai dicendo Scheletro aiuto C'è uno scheletro Un unicorno Morto Erio un unicorno Attenzione Ero pronto a mollarti un pugno Ma di quelli proprio Ultra mega power Ma se ci Risalgo su col potere dell'amicizia Cosa Ciao amico Oh non so Non so Non so No è venuto storto il ponte Che 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 urto Si vede che rispecchia proprio Il creatore del ponte Senti Non puoi far fare in culo Di notte Ti sfido ad essere preciso In tutto quello che fai Ho avvistato due cose molto belle Vieni 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 Sì Mob Ci sono mob Costruisca C'è pure un C'è pure un villager Uno zombie villager Allora Ora facciamo così Vedi Vedi Sì Perfetto Ciao Oh cazzo C'è uno scheletro Questo è il karma Non ti sei chiesto come non sono morto In che senso Non sono morto Dai Sei morto Vabbè Non sapevo che ci fosse il creeper Però ucciderti era più importante E' questa linea di orgoglio ad una certa Capisci Io vado giù Io vado giù Ah giusto che mi ero buttato Sì ma non così Ti sei buttato nel vuoto Sì Siamo stupidi Sai come ti butterei Fai schifo Anch'io sarei tentato Da fare il comando Slash kill Però non penso che lo farò Ma Ho trovato dei lapislazuli Dell'oro Del carbone Del ferro Del La bedrock Nella lava Del niente Hai un po' di ferro Devi capire Che io non ho niente Cioè io non ho neanche Una casa Non hai una famiglia Una Una dignità Vabbè Quella l'ho persa Tipo Venti Che poi tra l'altro La dignità L'ho persa Quando tipo Era al campo scout E tipo A un certo punto Ci dovevano E chiamare Ma sei coglione Ciao Esa Ma va Fanco Buon salve Ehm No Allora Esa dovresti vedere Un attimo Quello che sto vedendo io Scusate Non dovreste fare Assembramento Io non ve lo vorrei dire Stanno cadendo Sono stupidi Si buttano nel vuoto Vedete qui Ahia Ahia Non venite qua Scherziamo No No Aiuto Cosa ho fatto Vado fatto Ok Vabbè Dobbiamo trovare i diamanti Non li troverò mai Non si vede niente Ma come Che ti ha spavolato Un creeper Mi butto Ti vorrei cercare Penso che questa sarà La mia lunga discesa Verso il niente Aiuto Perché non Oh cristo Che è successo Esploso un creeper Ma torna qui Si mo arrivo Ma se non mi hanno più di palle Io però sai che cosa farei Un mortorio Uno scudo Però non è legno Quindi non lo faccio E' quando gli scheletri Sono così intelligenti Oh Ho scrivato le frecce Sono un pro Ok niente Eh Esa Dovrebbe venire un attimo qui Dove qui Dove Nell'isola Dovrebbe venire un attimo Nell'isola Quella di prima Perché sono appena morto Dio E allora Le faccio strada Perché ho trovato qualcosa Di davvero interessante E guardi Allora la prima cosa Venga qui Poi prenda la prima a sinistra Per via del Ma Paffanello Stavo guardando a sinistra Mi ero girato un attimo Shhh Non dirlo a nessuno Ah Salve Esa Esa Grande Ora buttiamo pure questo Eseemplare Ti servo Ti ammazzo No guarda 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 Scendi qui Scendi qui Dai tua madre Ok ora faccia così Si shifti e guardi Magari giù Possibilmente Tua madre Ti ho trovato io Tra l'altro vediamo quanti sono Uno due No Tre e quattro E cinque Non voleva vivere Nello stesso mondo Di Raitix No E vabbè Possiamo terminare in bellezza Sei stupido Perché ti ho preso Di inventare Come un piccone Sei serio Non ti conviene uccidermi Ti dirò perché Ecco perché Non ti conviene Non ti conviene farlo Tengo i diamanti nostaggio Stronzo E E Vabbè dai Affonco Ha capito A quanto vedo E quindi per questo video è tutto Se vi è piaciuto Vi invitate a lasciare un bel like Iscrivervi e guardate qui Giù nella descrizione Ci sono tutti i miei social Andate anche a seguire Il signore Esa Su Twitch Perché ricomincerà a fare Le streaming Vero Esa Vero Vero No Invece sì che lo farei Stronzo E quindi ragazzi Da Raitix Adesso è tutto E noi ci rivediamo Al prossimo video Blackout Vivo Stronzo Ti porterò con me Vabbè dai No No No